Le persone su internet non danno volentieri il nome e l'email, almeno quelli che girano da un po' lo danno quando pensano che valga la pena e hanno dei buoni motivi, buoni motivi semplicissimi, non sanno a chi vanno in mano e come verranno usate, quanto gli viene offerto, ti posso dire se giri in giro, guarda questa è la maggioranza dei casi, è piuttosto vago, non ti danno un buon motivo per il quale tu dovresti lasciare il nome e l'email, hanno paura che qualcuno magari lasciandogli il nome e l'email non sia una persona affidabile, seria, etica, onesta e quindi se ne possa approfittare poi per rivendere queste email, puoi mandargli messaggi, scassargli le scatole dell'infinito o fare altre cose poco piacevoli. E infine perché ti dovrei dare l'email che non so chi sei, mi stai promettendo il sole, la luna, le stelle eccetera, ma non ci siamo scambiati, non ci siamo conosciuti, non ho scoperto niente di te che dico wow, io voglio dargli il mio nome email, per cui perché te lo dovrei dare, questi sono motivi base base, terra terra, per cui le persone non danno nome email, a me risulta.